Ma non è vero che vale la pena di venire qui a Roma con tutti i vostri attrezzi da mojer fanatici, telefonini, gimbal, telecamere, bastoni, ma come pensate che possa essere serio un festival mojo, il primo oltretutto organizzato da quei fratelli righeira del giornalismo italiano, da Piro e Farro insomma? Eppure siete già tanti e vi state già esercitando, anche se l'appuntamento è per settembre, 21, 22 e 23. Alla Casa del Cinema poi dicono quei due, ma io non ci credo. Hai il mobile giornalismo? Sì, è per subirlo. Donde vienes? Mexico. From Zambia? Sì! Orizzontale o verticale la ripresa? Quei due, i Pulici e Graziani del fotogramma ci hanno dato nozioni confuse ed inoltre hanno promesso dei premi, ma voi ci credete? Io no. Ora sia chiaro che a me di Piro, di Farro, del mobile giornalismo continua a non importarmene assolutamente niente. Io l'unica cosa a cui tengo è fare questo festival insieme con Natalia. Ma dov'è Natalia? Ed conosce Natalia? Natalia no. Do you know Natalia? No. Natalia sai dov'è Natalia? You come from Korea? Korea. Perhaps you know Natalia? Natalia? Yeah. I don't know. You don't know Natalia? Ok. Guardate comunque che se lei viene vince perché è troppo brava. Intanto si fa la fila per iscriversi con un gran caldo, implacabile, ma mi sa che li vado a denunciare quei due. Forse dentro c'è anche Lazzaro Bappagallo. Forse dentro c'è anche Lazzaro Bappagallo.